punto f punto f attraverso francesca r riunione del 9 ottobre 2022 a cura di vb domanda l'entità che si manifestava prima dell'interruzione per la malattia dello strumento e la stessa di quella che adesso sei tu guida non sono lo stesso di quello che conoscevate con quel nome questo vi deve essere chiaro non c'è nessuna attinenza solo un ruolo simile domanda come alcuni di voi hanno detto a suo tempo lo strumento è una finestra aperta a cui si affacciano le entità che devono dire qualcosa guida che possono comunicare qualcosa nel punto di interesse che si sta manifestando o se c'è necessità trasmettere blocchi di informazione che vengono a loro volta ritrasmessi per riposizionarli e diffonderli la comunicazione non serve solo a soddisfare curiosità serve anche a passare informazioni attraverso questo strumento non avvengono in prevalenza contatti di altro tipo come avete già visto nell'esperienza passata avvengono informazioni passaggi di blocchi di informazione di altra natura poi se c'è spazio altro può essere dato ma non in maniera preponderante domanda dai primi contatti che sono stati interrotti e poi adesso ripresi perché avete cambiato voce perché a suo tempo era un maestro che parlava e adesso è un altro maestro perché guida perché è cambiato lo strumento domanda perché si è evoluto lo strumento e voi vi siete adeguati allo strumento guida certo ogni strumento permette dei passaggi vibrazionali a seconda della sua capacità più lo strumento si trasforma e riesce a cambiare ad andare avanti nel percorso della propria esistenza più per noi aumenta la possibilità di passare informazioni di grado diverso questo strumento ha ancora delle limitazioni verbali per cui dobbiamo ancora non comunicare direttamente ma utilizzare il suo corpo per comunicare con voi e quindi abbiamo delle volte difficoltà di linguaggio per la correttezza del significato del vocabolo che utilizziamo potremmo usare dei vocaboli molto più precisi molto più diciamo eruditi ma dobbiamo piano piano portare lo strumento a permetterci di avere questo accesso domanda posso fare un'altra domanda guida tutte quelle che volete sono qui per voi domanda in altri cenacoli per esempio presso il cerchio k succede che i neologismi offerti all'attenzione dei partecipanti nel prosieguo dell'insegnamento sono comunicati allo strumento di notte durante il sonno succederà anche per la prosecuzione del punto f guida cerchiamo di non dare questa tendenza quello che ci preme dare non è tanto la capacità di ampliare il vocabolario dello strumento ma la possibilità di apertura ai passaggi di attimi informativi diversi e quindi una correttezza sempre maggiore e una precisione sempre maggiore vi abituiamo anche a vocaboli più semplici a ripetizioni a termini scusate l'espressione terra terra ma molto chiari mentre ci interessa di più passare blocchi di informazione più sottili più densi di significato per fare questo lavoriamo con lo strumento sì in altri momenti la caratteristica del neologismo per ora non è necessaria se riusciamo nel nostro programma che è quello di arrivare a farvi vivere l'esperienza della voce diretta allora i neologismi li avrete direttamente da noi domanda visto che avete parlato di voci dirette prevedete che questo strumento possa produrre fenomeni fisici guida no domanda perché guida non è la caratteristica di questo strumento la sua caratteristica è un'apertura totale al servizio cioè diversa e diciamo la caratteristica migliore quella che permette il passaggio vero senza influenza limitato solo dalla nostra capacità di poter filtrare e darvi perché per noi passare attraverso lo strumento è come passare per la cruna di un ago perché ci dobbiamo assottigliare ma questo con qualunque strumento non c'è nessuno strumento che sia in grado di contenerci questo strumento come caratteristica ha la capacità di allargare il suo corpo eterico per permetterci di allargare il passo del lago quindi che cosa è fondamentale per noi la densità del messaggio domanda verranno altri maestri insieme a te guida anche domanda quando tu dici più avanti che cosa intendi nel nostro tempo guida nel termine del vostro tempo parliamo di 12 anni domanda grazie grazie a tutti